Il principe Harry è stato soprannominato il reale più popolare poiché un esperto reale afferma che i fan reali potrebbero vedere il ritorno di un duca e una duchessa di Sussex, parlando con Beth Rigby su Sky News, Dina Brown, autrice di The Palace Zero Pascal al secondo, ha affermato che Harry era il più popolare reale e che ci sarebbe stato un desiderio per il ritorno dei Sussex, in particolare dopo la morte della regina. La signora Brown ha anche affermato che il ritorno dei Sussex potrebbe portare un collegamento con la parte più giovane di questa nazione, ha detto. Tendo a pensare che ci sarà il desiderio di riavere i Sussex. Se si può elaborare qualcosa in cui i Sussex sono felici e si può trovare un ruolo che possono svolgere. Penso che davvero dopo la morte della regina ci sarà una reazione sismica così grande. Ci sarà un senso di lacerazione del tessuto di questo paese con la scomparsa della regina che per 70 anni è stata l'unica cosa che sappiamo, lei è anche sui soldi. Penso che sarà il desiderio di riavere i Sussex solo perché portano un legame con la parte più giovane di questa nazione. Sai che Harry era il membro più popolare della famiglia reale. E avere una bella donna dinamica di colore al suo fianco è stata davvero una cosa fantastica per la Gran Bretagna, lo è stata davvero, c'era un grande senso di perdita a palazzo che non ha funzionato. La domanda è se Meghan vorrà mai tornare in questo paese. I Sussex sono tornati brevemente nel Regno Unito di recente mentre si recavano agli Invictus. Games nei Paesi Bassi, si incontrarono con la regina e il principe Carlo al castello di Windsor. Tuttavia, a meno di un mese dalla fine, non è chiaro se parteciperanno a qualcuno dei festeggiamenti del Queen's Platinum Jubilee il prossimo mese. Il duca di Sussex ha precedentemente espresso timori per la sicurezza della sua famiglia in Gran Bretagna dopo che il Ministero dell'Interno ha ritirato la sicurezza finanziata dai contribuenti.